Da dieci giorni la Molisiana Basket Campobasso in campo al Palavazieri per la preparazione atletica. Oggi il coach Sabatelli ha concesso una sosta giusto il tempo di riprendere fiato e di proseguire poi con il carico di lavoro in vista del 28 settembre data d'inizio del campionato. Dopo tanti e soli allenamenti sabato verrà inaugurato il calendario delle amichevoli che prevede una prima uscita in famiglia poi un test in esterno e due tornei uno al Palavazieri e l'altro in Lombardia. L'esordio al Palavazieri è come buona abitudine contro la formazione under 18 maschile della cestistica Campobasso sabato palla 2 alle 18.30. Coach Sabatelli avrà modo di valutare il lavoro svolto dal suo roster. Il preparatore atletico Gian Nicola Giovanni sta mettendo benzina nelle gambe dei fiori d'acciaio. Per uno sportivo questa è la parte della stagione più dura in termini fisici ma decisiva in termini di rendimento stagionale. Agenda ricca di impegni per le rosso-blu che sabato 7 settembre saranno impegnate sul campo della neopromossa Viterbo per il secondo test questa volta con una pari categoria. Tre giorni più tardi invece appuntamento al Blu Note per la presentazione a stampe e tifosi di società, staff, tecnico e roster. A partire dalle 20.30 verranno svelati i progetti e i programmi della prossima stagione. È tanto il lavoro dello staff Magnolia che sta ultimando i dettagli del quadrangolare Trofeo Campobasso per lo Sport in programma il weekend del 13 e 14 settembre e che vedrà scendere sul parquet del capologo molisano formazioni di serie A1 e A2. Grazie a tutti.